Vediamo se in domina, voi siete figlio unico e voi tra fratelle e sorelle almeno 4-5. Magari 4-5. La sua torfarella, allevata da nonna e scappata di casa a 16 anni, sempre in giro per l'Italia, sempre dietro a qualcuno. Pino a quando non mi ha bloccato lui? Ah, l'ho bloccata. Ah, l'ho bloccata? L'ho bloccata? Ah, l'ho bloccata. È stata la mia prima fidanzata. Questo non me l'avevi detto? Ancora? Non c'è bisogno mica di dire tutto. L'ho bloccata. È inutile che non fai così, ma è bloccata. Scusi a signor Lorenzo, ogni tanto... Cambiato da solo. Ah, solo il cambiato. Io ho tre figli praticamente. La terza è lei. Cos'hai? Tre figli. Non mi dirai retta? Bambino è so... Bianca! A presto.